parte che non sono semplicemente le funzioni da r a r posso essere anche funzioni, adesso le chiamiamo così, poi ne ho uno specifico che sono da r alla n a r alla m possono essere qualsiasi cosa e al variare di n e m otteniamo funzioni che rappresentano cose diverse un caso abbastanza visuale sono le funzioni da r2 a r per esempio quindi sono le funzioni che a una coppia di punti associano un numero quindi a un punto che ha coordinate a, b associo per esempio a più b come si possono visualizzare queste funzioni? per esempio se noi invece che chiamarli a e b li chiamiamo x e y allora ogni punto x e y ne associano un nuovo ma questo nuovo punto dove sta? non sta sul piano x e y perché noi di solito abbiamo y uguale f di x quindi quando avremo qua qualcosa che ha funzione di x e di y allora lo potremo chiamare con una varietta z che sarà un nuovo asse per esempio uscente ortogonale a loro due quindi associerà un punto che ha una roba tridimensionale ok, che schifo ok allora, cominciamo con un attimo due definizioni cercherò di non ripetermi perché tante cose le abbiamo viste in algebra in area geometria analitica quindi una delle cose che probabilmente non abbiamo visto è questa reazione non è la sicuranza triangolare non è la sicuranza di Cauchy-Svars ma di scena da loro il modulo della norma di un vettore meno la norma di un altro vettore questo è minore o uguale della norma della differenza di due vettori che sarebbe proprio la lunghezza del vettore di differenza che a sua volta per la diseguenza triangolare è minore della somma delle norme ok poi, un'altra reazione se io ho un vettore v e un vettore w posso creare un vettore per esempio z che sia fatto così ha le corrate di v1 qua cioè quindi v1, v2, v3 fino a v con n e a un certo punto gli attacco v1 fino a v con m ok allora posso dire che la norma di fatemolo da e scrivo così z al quadrato è uguale alla norma al quadrato di v più a norma al quadrato di w di per sé le singole norme sono minori però sommate fa onestamente quello quindi la norma di v al quadrato è minore o uguale della norma di z mentre invece la norma di w al quadrato è minore o uguale della norma di z ok adesso abbiamo un po' di definizioni di insiemistica di topologia allora siamo in r alla n presse generali definiamo una palla di centro p0 dato un punto p0 appartenente a r alla n e di raggio delta questo insieme qua quindi la chiameremo ball di centro p0 e raggio delta è l'insieme dei punti appartenenti a r alla n tali che la norma di p-p0 quindi si vedrebbe questa distanza sia minore del raggio quindi nel caso p-p2 è una è una sfera perché abbiamo che x meno x con 0 al quadrato più y meno y con 0 al quadrato è minore di delta occhio che c'è minore o uguale quindi in pratica abbiamo questo tondo centrato in p0 di raggio delta ecco allora la palla è tutto quello che c'è qua dentro esclusa la superficie esterna esclusa la buccia ok e andiamo adesso a parlare dell'insieme complementare l'insieme complementare in pratica è tutto r alla n meno l'insieme che stiamo consterando se a è l'insieme che stiamo consterando ed è una palla allora il complementare sarà quello verde e sarà tutto r alla n compresa compresa la buccia la superficie ok adesso punto p0 è interno o l'insieme a contenuto in r alla n se esiste un delta positivo tale che la palla centrata nel punto di raggio delta sia contenuta in a quindi visualizziamolo un punto no ci avrebbe da dire che è interno se sta dentro questa sfera però come facciamo a dirlo che se io costruisco comunque una palla intorno per ogni delta allora tutta la palla è contenuta quindi una cosa del genere non è tutto contenuto non va bene una cosa che è così non è tutto contenuto non va bene e va anche uno ma facciamo tutti i casi ma invece così si quindi per quanto possa essere vicino tutta la palla che io creo è contenuta all'interno dell'insieme come possiamo dirlo quindi deve esistere un delta maggiore di 0 tale che se un punto appartiene a r a n un punto p appartiene a r a n allora e se la questa la norma di p meno p 0 è minore di delta allora il punto p appartiene in SMA e chiamiamo con a pallino è l'insieme dei punti interni chiamato parte interna ok adesso tiriamo che un punto più 0 è di aderenza se prensa per un certo insieme A per A contenuto in R a n se vale che per ogni delta maggiore di 0 sia che la palla centrata in p con 0 di raggio delta intersecata con A non faccia l'insieme vuoto ok poi adesso lo regaliamo agli insieme dei derivati però chiamiamoli insieme tutti i punti di aderenza A con la lineetta ok finalmente andiamo a parlare dei punti di frontiera quindi p 0 è un punto di frontiera per un certo insieme A se per ogni delta positivo sia che la palla centrata in p con 0 di raggio delta intersecata con A non sia l'insieme vuoto e invece lo scrivo qua sotto allora che la palla centrata in p con con 0 di raggio delta intersecata con il complementare di A di nuovo non faccio l'insieme vuoto quindi in altre parole se per quello che delta è meglio di 0 esiste un punto appartenente all'insieme un punto P appartenente all'insieme e un punto Q appartenente al complementare dell'insieme tale che la norma di p meno p 0 si è minore di delta e la norma di Q meno Q 0 si è minore di delta poi finalmente abbiamo i punti di accumulazione allora p 0 è di accumulazione se per ogni delta maggiore di 0 esiste un punto P appartenente all'intersezione tra la sfera alla palla cegnata in P di raggio delta intersecata con A con P diverso da P 0 questa roba qua è la definizione però si può riscrivere in pratica se per ogni delta maggiore di 0 esiste un punto appartenente ad A tale che questa è sempre maggiore di 0 perché è una norma P meno P con 0 sia minore di delta quindi esiste dei punti di A diversi a P 0 che siano arbitrariamente vicini a P con 0 vale per ogni delta positivo e i punti di accumulazione sono sempre punti di aderenza quindi se non sbaglio dovremmo avere che i punti interni ah scusami la ah no l'insieme dei punti di frontiera viene chiamato frontiera e si fa si indica con F mentre invece l'insieme dei punti di aderenza ok si chiama chiusura di A e si indica con a linea ok ok sta dicendo abbiamo che i punti interni sono contenuti uguali nei punti di accumulazione che sono contenuti uguali ai punti di aderenza i punti isolati invece P con 0 è isolato se esiste vabbè un intorno di P con 0 intersecato con A che faccia l'insieme vuoto quindi sono i punti di aderenza che però non sono punti di accumulazione allora date queste finzioni si verificano le seguenti caratteristiche abbiamo che i punti interni sono contenuti in A che a sua volta è contenuto voilà nei punti di aderenza i punti di aderenza sono l'unione dei punti interni con la frontiera ossia basta aggiungerci la buccia ovviamente frontiera di A ok mentre invece questa unione qua se noi pensiamo invece all'intersezione è 0 e l'insieme è vuoto questa roba qua ci ricorda un po' la somma diretta perché uniti ci danno proprio i punti di aderenza ma invece l'intersezione è vuota poi cosa abbiamo che la frontiera del complementare di A è proprio uguale alla frontiera di A questo le parentesi posso anche evitare però per farlo capire un attimo meglio e poi che se noi possiamo andare a calcolare al complementare di A ci calcoliamo i punti interni questi equivalgono a i punti di aderenza all'insieme dei punti di aderenza a cui calcoli complementare inoltre abbiamo che i punti di aderenza del complementare sono uguali ah ok questo qua sembra uguale a quello che ho scritto prima però sono coinciditi il simbolo di verità che è un attimo complicato al complementare invece dei punti interni questa roba qua la possiamo un attimo visualizzare così se noi pensiamo faccio un disegnino la questa la possiamo vedere cos'ha se noi andiamo a disegnare il primo insieme deve essere lui quindi anche la buccia si prende è tutto esterno lui deve essere uguale invece a partire da quello interno no scusatemi dobbiamo fare il complementare di questa cosa quindi questa cosa qua torna perché se noi ne calcoliamo il complementare è tutto il resto quindi è tutto qua intorno ed è anche la buccia perché se prima non è presa quando ne calcoli il complementare invece te la prendi anche lui lo possiamo un attimo visualizzare il primo insieme partiamo da lui bucato e prendiamo tutta la parte esterna buccia esclusa e questo dovrebbe essere uguale a faccio correre su di nuovo dobbiamo calcolare il complementare di questo insieme qua buccia inclusa ma ovviamente torna dato che prendo tutto eccetto la buccia quindi no come qua prendo tutto ciò che li vertei insieme senza la buccia ok le dimostrazioni non ve le faccio perché non sono definizioni queste sono cose che vediamo adesso abbiamo un po' di definizioni perché con insieme a lo possiamo chiamare aperto chiuso limitato o compatto vediamo già la cosa più difficile siamo abituati a sentire un insieme è compatto solo se chiuso è limitato tipo un intervallo diciamo che un intervallo è compatto quindi si ha parentesi quadrate si è chiuso è limitato bene siamo in analisi 2 questa roba qua è la ta non è la definizione è una conseguenza è un bellissimo teorema da dimostrare ma un insieme è compatto se da ogni ricoprimento aperto da è più piccolo ricoprimento aperto per esempio è possibile estrarre un sotto ricoprimento e di ok che cosa significa un ricoprimento aperto di questa robita qua che ho scritto è una famiglia di insimi aperti questa qua è una famiglia di insimi aperti chiamati a con i j vabbiamo scrivere no a con i basta che ha un numero contabile numerabile finito di elementi la cui unione contiene l'insieme in partenza un sotto ricoprimento finito un sotto ricoprimento invece è una stofamiglia degli insimi aperti quindi è una cosa che contiene i sotto insimi aperti a con i che che devono essere così da un numero finito di elementi la cui unione contiene quindi volevate la cosa complicata ok trovata la cosa complicata passiamo alle cose semplici un insieme si dice aperto se tutti i suoi punti sono interni quindi se lui concite con lui poi un insieme si dice chiuso se invece tutti i punti di aderenza appartengono da cambiamo quindi invece che lui ci mettiamo lui ok poi l'insieme è limitato se esiste un certo raggio r tale che la palla centrata dove volete p con 0 di raggio r allora si ho sbagliato contenga a ok io odio questi simboli qua mi ricordo troppo pacman che mangia qualcosa quindi penso che sia piccola mangiare il grande invece al contrario ok cioè questa roba qua è data p0 è veramente un qualsiasi punto questo deve valere che p meno p0 sia minore di r può essere l'origine come qualsiasi altra cosa e per una lezione basta può essere o che può essere o che è o che è o che è o